Toritto, Terit nel dialetto locale, è un comune pugliese della città metropolitana di Bari, i cui abitanti sono detti torittesi. Centro situato a 223 metri di altezza sulle murge, è documentato nel catalogo dei baroni negli anni tra il 1150 e il 1168 come Turritum Quod Est Feudum Quator Militum, poi anche nel Registro delle Decime, nell'anno 1310, come Clerici Turicti. Il toponimo non pare un derivato di torre, ma un riflesso del latino torus, rialzo di terreno, con etum come suffisso collettivo. Una leggenda locale riferisce invece il nome a un torello bianco e lo stemma cittadino creato nel 1818, quando venne richiesto uno stemma per ogni comune del regno delle due Sicilie, facendo riferimento alla leggenda, riporta appunto l'immagine di un toro. Le origini del paese risalgono all'alto medioevo, forse intorno all'ottocento d.C., sebbene la prima attestazione certa sia del 1069 ed è del 1171 un documento dell'Arcidiocesi di Bari che testimonia la presenza di una parrocchia. Parte del territorio si trova sull'altopiano della Murgia e all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, comprendente terreni coltivabili, coltivati a uliveti e mandorleti, i pascoli delle regge difese e zone dove svernavano le greggi provenienti dall'Abruzzo. Un tratturo infatti passava a circa 7 km dal paese. Altre aree dell'altopiano sono invece costituite da terreni calcarei sassosi e interessati da fenomeni carsici. Centro di tradizione agricola, in particolare per la produzione di mandorle. La mandorla di Toritto è infatti presidio slow food. Con la denominazione di mandorla di Toritto è riconosciuto un prodotto tipico pugliese inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel territorio di Toritto si sono sviluppate varie cultivar autoctone di mandorlo, che portano il nome di antichi cittadini torittesi, ma solo alcune di queste hanno resistito all'invasione delle più produttive varietà californiane, purtroppo. Le principali sono la Antonio De Vito, la Genco e la Filippo Cea, della quale sopravvive la pianta madre ed è ancora molto diffusa nei mandorleti e particolarmente ricercata dai pasticceri di tutto il mondo e presso gli agricoltori di tutto il circondario barese.